Crescente che viene organizzato in Campania e quindi siamo qui per promuovere chiaramente. È un evento unico che si fa in Campania perché è diversità di un evento mondiale e quindi sarà qualcosa di straordinario, non solo per l'importanza dell'evento ma soprattutto perché sarà un evento proprio dedicato ai giovani, giovani che arriveranno da tutti i grandi del mondo, quindi in uno spirito di accoglienza e di apertura della nostra terra, la Campania, ha sempre saputo fare. Come si sta preparando la città di Avellino all'evento? Diciamo che tutta la regione si sta preparando ad accogliere questo evento importante, ognuno sta facendo il suo, stiamo ristrutturando nuovi impianti che poi rimarranno in eredità ai cittadini, quindi questa è un'occasione unica per la Campania, dobbiamo farci trovare pronti come stiamo facendo, stiamo lavorando, c'è un impegno da parte di tutta un'organizzazione, per far sì che ci facciamo trovare veramente in ottima posizione quando siamo per cominciare. Grazie.